Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova, io sono Samu U. Oggi voglio farvi vedere le tre fusioni tra personaggi in Kirby. Spero vi piacciano i miei disegni e iniziamo subito. Il primo è Kine Dedè più Taranza. Via! Il suo nome è Taranza Dedede. Il prossimo. Go Away più Rackno. Rackno sarebbe quello che se lo risucchi ti dà abilità a ragno in Kirby Star Allies. Via! Il prossimo. Kirby più Marks. Il boss finale di Kirby Super Star Ultra. Bene, via! Ah no, un attimo, aspettate, questo qui si chiama Gorackno. Vabbè, vabbè, ora Kirby Marks. Il suo nome è Kirx. Kirx, non mi viene il nome, vabbè, Kirby Marks. Via! Bene, il prossimo. Aspettate, avevo detto che erano tre. No, c'è quello bonus. Bene. Kirby più Samu U.I.B. Ovvero io. Via! Spero i miei disegni vi sia piaciuti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ciao!